La Costa delle Miniere, 100 chilometri in 30 ore non stop, realizzata da Lino Cianciotto e dall'Associazione Naturabilmente, è ormai al via. Il primo e il due giugno le date fissate nel pieno rispetto dei tempi dettati dalle attuali disposizioni anti-covid. L'indimenticabile esperienza sarà ambientata nella salvaggia costa sud-occidentale della Sardegna, ricca di bellezze naturali e di storia millenaria. Protagonisti assoluti saranno Lino Cianciotto, guida turistico-ambientale, atleta, fotografo e la neonata associazione di promozione sociale Naturabilmente, di cui è componente insieme ad Aldo Murtas, Claudia Farigu, Alberto Porcuzanda, Claudio Contu, Davide Sanna e Stefano Noli. Un evento esperienza che si svolgerà in due parti. La prima sarà una lunga camminata di 50 chilometri a ritmi serrati che condurrà dalla spiaggia di Plage Mesu a quella di Piscinas, in un susseguirsi incredibile di sentieri a picco sul mare, costeggiando le miniere che un tempo rappresentavano la cifra del tessuto industriale di questa zona della Sardegna. La seconda parte di ritorno si svolgerà in senso opposto, via mare, in una navigata di circa 27 miglia nautiche, 50 chilometri, da Piscinas con destinazione finale Porto Escuso. Lo sforzo psicofisico dell'atleta non vuole essere fine a se stesso, ma sostanziare un grande e forte messaggio di inclusività e di valorizzazione territoriale della costa sud-occidentale della Sardegna. L'obiettivo dell'associazione, naturalmente, è quello di dimostrare che tutto è possibile e che persone apparentemente disabili possono tranquillamente essere protagoniste del turismo attivo e dello sport, come ampiamente dimostrato durante la Villa Ciro Sky Race. Questa esperienza non è soltanto un messaggio di inclusività e di tenacia verso chi vive quotidianamente una condizione di disabilità. La costa delle miniere Experience è un messaggio di rinascita, anche per le realtà territoriali e gli amanti della natura, dopo le costrizioni e le chiusure del periodo della pandemia dal quale stiamo faticosamente uscendo. Il progetto Costa delle Miniere 100 chilometri in 30 ore non stop è reso possibile anche dal supporto di varie aziende.